La casa dei sette nani è piccola. Apri un mutuo, lo possono chiedere solo le belle ragazze come te. Davvero? Basta dare un morso a questa bella mela. Signora, ancora con queste bugie? Lasciate perdere le favole. Mutuo a tasso variabile con spread da 1,50%. Gruppo bancario Credito Valtellinese. La verità è che conviene. La verità è che conviene.